Mi presento, sono Carla Pitarelli, vi parlo dal parco stupendo di Villa Panfili dove sono solita passeggiare o correre. Nel 2004, in seguito a un tumore al seno e all'operazione, ho inventato un reggiseno post-operatorio utile a tutte le donne dopo un intervento al seno. Questo reggiseno consente di far rimanere bloccate le mammelle ma nello stesso tempo di tornare presto alla vita quotidiana, alla propria famiglia, al proprio lavoro, a dormire su un fianco, diciamo a migliorare la vita di un periodo in cui spesso e volentieri si deve stare immobili e a volte possono insorgere anche delle complicazioni, piaghe o tutta una serie di cose. Diciamo che è stato testato da molti pazienti e da molti medici con un risultato ottimale, dopodiché sono riuscita a ottenere anche dei brevetti e dei premi internazionali importanti. Oggi con il Crystal Bra ho risolto tanti problemi e vorrei renderlo tecnologicamente all'avanguardia con l'inserimento di un apposito microchip nella coppa che permetterà di dialogare con uno smartphone per evitare complicanze ulteriori di qualsiasi natura. Inoltre vorrei anche far sì che questo reggiseno potesse avere la marcatura CE, quindi potesse essere prescritto dai medici. Per fare tutto questo ho bisogno del vostro aiuto. Vi ringrazio fin d'ora per tutto quello che potete fare per migliorare questo periodo a volte messo un po' nel dimenticatoio e rendere la donna comunque dopo l'operazione bella, attiva, pronta per le sfide quotidiane. Perciò vi saluto e ciao a presto!